La mia moglie, lascia perdere, è piena di dolori, invecchia, è piena di dolori, l'altra sera a letto gli accarezzavo una coscia, mi fa male, gli accarezzavo un braccio, la guantava ai fianchi, mi disse ma che mi sembra di essere a giocare all'allegro chirurgo? Un periodo che mangia, fattelo che mangiare, in un mese avrà preso 18 kg, mi ha detto ma che a me mi vedi grassa? No, 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 ma sono tutti feste di vendere, sennò si scambiano quelle lampadine di vetro, è un periodo che mi fa fare le cose in casa, e te non sei buono nemmeno a cambiare una lampadina, sembra che a me mi ha sposato per cambiare le lampadine in casa, no? Mi ha detto mettimi le tendine in bagno, è un mese che me le spaccola, mettimi le tendine in bagno, ho detto che furia, quando ho 5 minuti te le metterò, eh no, dice lei, perché se no, quando faccio la doccia i vicini mi vedono nuda, non ti preoccupare, quando ti hanno visto le mettono le tende Non fa nulla, non fa niente, in casa non fa più niente, l'altro giorno un mio amico mi ha detto, oh, che non sei uscito l'altra sera? No, gli ho detto, sono rimasto in casa a vedere cuscine da incubo, ah, quello su Sky, no, no, la mia po', la mia moglie ormai 20 giorni non lava piatti No, no, la mia moglie ormai 20 giorni non lava piatti